amiche ed amici della lettura salve oggi con noi c'è di nuovo un'autrice in self publishing maria diletta veluti ciao maria diletta come stai ciao fermati solo un istante per iscriverti al canale e attivare la campanella questo tuo contributo è fondamentale per me e per i miei ospiti grazie ciao io tutto bene grazie tu bene dai è sabato pausa dalla scuola e si riparte senti maria e posso chiamarti solo maria o solo diretta quale preferire dire perfetto senti diletta partiamo dall'inizio chi è maria diletta veluti e maria diletta veluti è un insieme di di tante tante sfaccettature sono mi definisco sempre una consulente di giorno e di notte una scrittrice diciamo che nella vita di tutti i giorni lavoro a contatto con quella che la parte fiscale legale quindi contratti numeri e di sera invece mi immergo nelle mie storie in tutte quelle storie che da una vita mi hanno sempre riempito la testa e che finalmente ho trovato il modo di poterle far uscire ovvero con i miei romanzi sono una persona che solare sui social soprattutto questa cosa si nota trovo sempre un modo per sorridere io dico sempre che la felicità è spesso una scelta e io tutti i giorni tento anche con le persone che mi sono vicine di renderle felici di sorridere e sono anche una sportiva corro 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 tanto nella vita sogno chiacchiero perché sono anche una persona super logorroica e te ne renderai conto con questa intervista che io parlo parlo finisco un discorso ne inizio un altro da sola e rido e corro splendido beh una risata fa sempre bene e un sorriso e un dono senti ma tu prima di tutto sei una lettrice quale genere ti piace allora devo dire che io ho iniziato come book blogger avevo un blog collaboravo con delle case editrici per radio tour blog tour e sì io leggo leggo tantissimo anche se sì leggo di tutto ma il mio genere preferito è il romance e i romanzi storici sai che anch'io adoro i romanzi storici i romanzi storici sono vabbè per purtroppo essendo uno storico del medioevo non ufficiale alla barbero però di fatto dedicato tutto il percorso triennale specialistica dottorato tutto al medioevo quindi il percorso universitario quindi di fatto non posso non amare i romanzi storici senti passiamo invece alla tua pubblicazione al tuo romanzo la sirena di bell'aere perché questo titolo allora c'è una storia ovvero io vado da sempre al mare a bella regia marina che è una città dell'emilia romagna e essendo una lettrice giravo sempre per le librerie per le biblioteche un giorno vado in questa biblioteca e c'era aperto diciamo in maniera proprio straordinaria questo volume antico in questo volume antico ho scoperto che nel 1500 i corsari barbareschi avevano attaccato la costa quest'idea mi è sempre rimasta in mente c'è sempre un po sognato facevo le ricerche ma a livello di internet e anche di fonti c'era veramente poco quasi nulla finché a un certo punto ho incominciato a immaginare la figura di questa ragazza sdraiata su questa spiaggia che ha proprio l'inizio del romanzo quindi c'è tutta questa storia dietro appunto perché amo i romanzi storici quindi ambientazione storica bene e sì in effetti noi ci concentriamo sulla battaglia di lepanto che pose fine un po al diciamo a questa simpatica pratica del fatta dai pirati barbareschi dal sud o turchi dal dall'est però poi di fatto anche noi l'abbiamo fatto sulle loro coste e chissà se qualcuno ha scritto un equivalente del tuo romanzo però ambientato sulle coste turche o sulle coste nordafricane sarebbe interessante da andare a cercare senti approfondiamo invece la sirena di bell'aere ci vuoi raccontare un aneddoto una chicca allora per quanto riguarda un aneddoto è che il mio romanzo è stato scritto completamente sul treno è interessante perché lavorando 89 ore al giorno e avevo appena iniziato questo lavoro appunto di consulenza fiscale e legale ho detto caspita io quando è che scrivo perché durante la pausa pranzo comunque mi piace stare con le colleghe sempre per il fatto che chiacchiero molto allora l'unico l'unico momento libero era quando stavo sui mezzi un'oretta e mezza l'andata un'oretta e mezza al ritorno quindi al mattino con comunque il caos degli alunni o anche dei lavoratori che parlano e si ritrovano e condividono i loro le loro giornate io mi trovavo lì in mezzo a cercare di scrivere di dare un senso a quello che stavo facendo e spesso invece alla sera mi addormentavo mentre scrivevo però dettagli io ammetto il peccato viaggio da solo per scelta perché preferisco la solitudine in certe fasi della giornata e anche perché poi quando sono a scuola mi dedico totalmente a quel lavoro e quindi ai ragazzi e ne approfitto per ascoltare audiolibri ed effettivamente mi rendo conto che viaggiare insieme ad altre persone anche solo un'altra persona di fatto è estremamente vincolante con questo per carità non voglio dire che non si debba viaggiare lungi da me però effettivamente è difficile ritagliarsi un proprio spazio e se si utilizza una di quelle cuffiette grandi che avvolgono le orecchie si passa anche per chi magari è asociale o antipatica e invece uno cerca solo un po di tranquillità senti chi è sirena sirena nella finzione del romanzo e chi è sirena nella realtà allora sirena è un personaggio che è nato da sé e che mi ha portata a scrivere il romanzo a darle voce col tempo ho capito di essere io sono io lei e questa cosa un po mi spaventa perché moltissime persone quelle vicino a me mi hanno subito riconosciuta mi hanno detto sei tu e io effettivamente sì e la cosa che mi spaventa sono le persone che non mi conoscono che possono tra virgolette scoprire parte del mio mondo il mio carattere nei lati positivi negativi perché comunque anche lei non è che si comporta sempre bene nel romanzo e però sono sono io e questa cosa mi ha permesso che è una delle cose più belle della scrittura di scoprire parte di me che non conoscevo ancora più scrivevo più entravo nella sua mente perché comunque scritto in prima persona più scoprivo cose nuove beh infatti questo romanzo è stato anche molto importante mi ha portato a svelarmi era una persona molto timida quasi impacciata e goffa prima di scrivere poi nel momento della stisura che mi ha portata ad essere più attiva sui social per un secondo momento farmi conoscere e una volta che presentavo il mio romanzo non farlo passare diciamo inosservato mi sono un po buttata in questa sfida proviamo essere social a pubblicizzarmi e ovviamente questo comportava fare storie metterci proprio la faccia perché quando ero book blogger mi nascondevo il viso con il libro e ho scoperto un'ame molto più sfumeggiante molto più diciamo anche coraggiosa di raccontare se stessa la propria storia le proprie paure le infinite insicurezze come dico io e poi c'è stato anche un cambio di capelli perché prima ero un biondo e poi sono proprio scoppiata ha fatto anche questo colore molto forte ma quindi posso dire una cosa mi ricorda un po ariel me l'ha detto tutti volevo dire però mi ricorda un po ariel senti sulla questione book blogger vorrei ritornarci dopo se se ti fa piacere e ovviamente sentiti libera di non rispondere senti invece la controparte l'altra metà del cielo la controparte maschile è il capitano ward stessa domanda chi è il capitano ward nella finzione del romanzo e esiste nella realtà il capitano ward allora esiste ed è il mio compagno diciamo che a livello proprio anatomico è lui o chiamandola comunque anche la la pelle molto abbronzata è lui praticamente anche di carattere infatti la controparte ovvero i suoi amici l'hanno riconosciuto subito e lui essendo invece una persona molto più introversa e anche diciamo ci tiene molto alla sua privacy questa cosa lo mette un pochino in difficoltà però d'altronde come primo romanzo ho preso molto spunto dalla mia vita mi sembrava una cosa molto più congeniale però dall'altra parte direi anche che è stato un fatto molto naturale come se avessi voluto mettere su carta me lui e la nostra storia non che ovviamente noi siamo stati su una nave che sono successe cose però è come se nei due personaggi io abbia inserito ciò che più amavo in fondo cioè lui gli ho dato un ruolo comunque importante il primo personaggio maschile della della mia della mia storia e questa cosa mi ha anche accompagnata cioè sapere che la mia protagonista aveva a fianco una persona come lui non so era una sicurezza senti tu conosci il territorio che hai descritto ma la domanda è il villaggio di bellaere esso è stata una scelta diciamo funzionale allo svolgimento dell'arco narrativo oppure c'è qualcosa che ti lega di più che ti lega sentimentalmente a questo a questo territorio allora è sentimentalmente perché i miei nonni materni hanno una casa a bellaria e quindi io tutti gli anni per il mese di agosto stavo con loro in questa città quindi è la mia seconda casa e poi comunque c'è un po una storia triste perché nel momento in cui io ho deciso poi di buttarmi in questa avventura perché comunque è un'avventura la scrittura è venuto a mancare il mio nonno e quindi anche questo è stato un po un omaggio un omaggio a nonno e anche a mia nonna per tutte le meravigliosi stati che mi hanno donato per comunque avermi fatto conoscere un posto che per me nella sua semplicità perché è una città molto semplice è un posto meraviglioso bene senti ma che cosa ha di particolare questo bell'aere o bell'aria? bell'aria marina bell'aria e già marina non so per me ha un odore particolare quando arrivo d'estate la prima cosa io annuso l'aria e dico sono a casa per quanto ho visto altri mari altri posti non so ha proprio un odore che sa di casa poi tutti i ricordi che ho della mia infanzia ho trascorso veramente dei giorni meravigliosi in quel posto per me sarà sarà sempre unico io ogni estate devo assolutamente andarci ovviamente lavorativamente permettendo però se non vado un giorno veramente una sofferenza un anno a causa covid non sono potuta andare e mi è bastato perché non so l'anno non era andato poi così tanto bene sai penso ci siano dei posti che per ognuno di noi siano rigenerativi non tanto per il corpo quanto per lo spirito quello che tu hai detto io lo riscontro tutte le stati con mia moglie mia moglie ha una casa dai tempi dei nonni a Pestum e oggettivamente lei ha bisogno proprio di andare lì anche solo un giorno però per respirare quell'aria io ho forse lo stesso ho la stessa esigenza con la mia città natale con Nocera anche se adoro il mare e le montagne perché ho vissuto anche a Bolzano per alcuni anni però è vero si entra in sintonia con dei con dei luoghi e sarà l'aria saranno sarà altro chi lo sa in fondo non siamo solo fatti di carne e sangue siamo fatti anche di spirito tu che tipo di scrittrice sei di letta sei una di quelle che si abbandona totalmente all'ispirazione del momento oppure riesce a essere disciplinata crei trame sottotrame i profili dei personaggi e un po alla profiler dell'fbi ciro esposito adora la margherita impazzisce per le patatine fritte col ketchup allora ahimè io sono come nella vita di tutti i giorni una pianificatrice seriale il mio romanzo nasce solo dopo un'attenta analisi ovvero io mi prendo e non sto scherzando una questione come due mesi per pianificare tutto il pianificabile mi creo delle piantine mi disegno proprio dei fogli tu dall'alto tutti i posti non so qua c'è il letto qua c'è la finestra con la sirena sono arrivata a disegnare una nave ovviamente un disegno veramente imbarazzante però mi ha permesso di capire dove il personaggio dovesse andare insomma non doveva girare a caso e i personaggi si hanno ovviamente tutti una loro scheda colore di capelli, colore degli occhi, cosa gli piace, cosa non gli piace però se la pianificazione sui luoghi e sui capitoli è veramente ferrea del tipo ogni capitolo ha uno o due pagine di Word con la spiegazione di tutto quello che deve accadere a volte ci metto già delle battute in anticipo se mi vengono in mente però il personaggio si crea durante il romanzo su quello mi lascio molto ispirare anzi a volte un personaggio nasce in un modo arriva alla fine e si trasforma perché è come se lo conoscessi è una conoscenza e ovviamente quando vedi una persona in un primo momento ti può dare un'impressione poi mano a mano che la conosci noti qualcosa, quella qualcosa e alla fine cambia e così per i miei personaggi a volte infatti li devo stravolgere completamente perché all'inizio sembrano un po' schivi e poi alla fine sono le persone più buone del mondo però sì, sono una pianificatrice seriale ogni cosa è calcolata non mi sbogge nulla senti, hai quindi una routine di scrittura? sì, 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 ho una routine in realtà la mia routine è ogni attimo libero appunto non è più solo nei mezzi può essere magari in pausa pranzo che mi prendo quei dieci minuti prima di andare con i colleghi perché mi è venuta in mente un'immagine oppure alla sera quando torno a casa per me l'importante è tutti i giorni trovare almeno mezz'ora a parte che mi fa bene però la disciplina a mio avviso se aspettassi l'ispirazione o l'emozione giusta non riuscirei a scrivere un romanzo almeno in poco tempo quindi come ogni cosa nella mia vita disciplina, disciplina e questa è la mia routine ogni momento libero io qualcosa scrivo ci hai fatto caso che l'importante è iniziare poi le idee vengono da sole e i personaggi fanno quello che vogliono a volte sì, non glielo permetto molto devo dire no, io li tengo molto disciplinati però capita più con i personaggi secondari non so perché questa cosa però i personaggi principali, i protagonisti mi seguono, sono molto educati quindi quelli secondari spesso non so forse perché poi non emergere di più a volte sì scappano un po' il mio controllo senti Diletta dove posso essere un po' curioso permettimelo dove annoti? perché hai detto che a volte ti prendi dieci minuti per annotare quaderno e penna smartphone tablet portatile come funziona? allora sei troppo disciplinata per i post-it allora se ti dovessi dire questa allora io ti do la risposta però non pensare che sia una cosa maniacale allora io sono una persona che pensa sempre alle possibili conseguenze quindi i post-it li potrei perdere il libro lo potrei smarrire come un'agendina le note ecco le note è stata una cosa orrenda una volta scrissi di getto un capitolo difficilissimo nelle note smarreta non so come mai si è cancellata la nota sul telefono e da quel momento sono una persona molto fissata di perdere le idee o comunque il lavoro di una giornata mail io scrivo tutto e me le mando da sola e nell'ultimo periodo sono anche peggiorata perché mi mando gli audio su whatsapp nella mia chat cioè io ho la chat con me stessa piena di audio di future trame oppure di cavolo però quel capitolo 10 se ci mettessi quella scena quindi quando ho tempo non riesco a mandarmi non so la mail mi mando i vocali sono una persona con dei seri problemi no non credo io ho il cassetto su whatsapp che è la chat con me stesso si chiama cassetto perché è come un cassetto ci metto quello che è quello di cui ho bisogno poi utilizzo il cloud per gli appunti mentre alcune cose sopra questo vale soprattutto però per dei link magari di video di youtube che non sono riuscito a vedere o che ho trovato per caso ho libri da acquistare cose del genere scrivo in oggetto di cosa si tratta e mi mando le email quindi o siamo entrambi pazzi oppure abbiamo delle sane abitudini io propenderei per la seconda però direi di sì se è un problema comune non è un problema no 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 ma sai siamo sempre di corsa alla fine è complicato e tu pensa che io un'email personale un'email spam è un'email dedicata solo allo spam quindi quando ho bisogno di prendere dei freebie metto l'altra email mi prendo il freebie e poi ciao nel senso che tranne quelle dove magari il formatore che mi interessa mi interessa seguirlo e quindi ok o se reputo quel formatore serio mando poi una nuova email diciamo con quella personale e poi ho l'email della scuola è un'ottima idea quella dello spam effettivamente non ce l'ho mai pensato visto direzioni verso altri lidi qualche volta di letta uno scrittore soffre dei blocchi temporanei dello scrittore quella pagina bianca che non si vuole riempire lo schermo bianco che diventa quasi un'ossessione a te è mai capitato e tu quale consiglio daresti a chi si trova in questa situazione allora il blocco dello scrittore è una cosa che temo tantissimo io a me stessa più che blocco lo chiamo anzi la chiamo la mia musa a volte dico che la mia musa non mi sta più parlando e tornerà però non si sa mai quando io per sconfiggere questa situazione appunto pianifico la qualsiasi quando ho concluso un romanzo e mi proprio impegno nella pianificazione per questo ti dico che ogni capitolo è perfettamente analizzato ci impiego veramente anche due pagine di word per spiegare bene che cosa sta succedendo in quel capitolo perché nel momento in cui si arriva la stesura quando si arriva la stesura devo scrivere la prima stesura è quella un po' più complicata comunque e se io so esattamente quello che sta per succedere difficilmente mi blocco sì magari in quel momento la mia musa non mi dà quella voglia di scrivere ci sono comunque momenti in cui non si ha voglia non si è stimolati però se si sa quello che si deve fare si fa e io appunto anticipo il problema diciamo la Maria Diletta Veluti scrittrice nel 2020 con un racconto Bell'Aere vince un concorso letterario nazionale ovvero quello fatto creato da storiche edizioni e il tuo racconto poi finisce all'interno dell'antologia racconti da sogno ci spieghi questa questa tua esperienza come è nata questa sei stata tu sei stata selezionata sono e come ci si rapporta poi con un concorso allora devo dire che fu una mia amica sempre legata al mondo delle book blogger che mi mandò questo annuncio io onestamente non sapevo minimamente che esistessero concorsi o dove trovare questi annunci e lei mi disse comunque sei brava negli articoli collabori con le case editrici buttati perché era una cosa che mi dicevano tutti forse sapendo che a volte ci avevo provato ma arrivavo al fatidico capitolo 5 e mollavo completamente perché appunto non avevo disciplina e quando la musa smetteva di parlarmi bene allora non era cosa io avevo un tempo molto limitato perché questo concorso era aperto già da tanti mesi sarebbe scaduto da lì a due mesi e anche se comunque quelle che diciamo erano le cartelle erano veramente poche far confluire una storia in poche cartelle e che avevano addirittura un tema che era quello del sogno non era per nulla facile però ci ci provai ci provai e alla fine il giorno prima della scadenza ho schiacciato il tasto invia l'ho inviato e quando ho ricevuto poi la mail che mi avevano scelta all'inizio stai perché dal momento in cui io l'avevo inviato era più una sfida nei miei confronti ok l'ho fatto ho portato a termine questa situazione e quindi è successo veramente per caso per caso senti e invece so che tu hai lavorato e lavori tuttora con Liliana Marchesi personaggio noto nel mondo della scrittura io ho avuto il piacere di fare quattro chiacchiere con Liliana Marchesi puoi raccontarci questa esperienza allora sì con Liliana è una storia molto particolare perché quando io dopo ecco allacciandomi alla domanda precedente dopo quel raccontino che è stato selezionato e pubblicato tutto finisce lì nel senso l'idea di scrivere mi ronzava in testa però avevo comunque subito un lutto importante di mio nonno per l'appunto e quindi avevo un po' come collegato le due situazioni quindi avevo detto ok la scrittura si è chiusa in quel capitolo poi lavoravo come insegnante all'epoca e c'era la classica disoccupazione estiva disoccupazione estiva io mi annoiavo un pochino facevo un po' di ripetizione dei ragazzi però comunque la giornata era infinitamente lunga e il mio compagno mi un po' prese come sfida e mi mi fece vabbè ti annoi tanto scrivi è una cosa che vuoi fare non rimandare ancora scrissi questa bozza della serena di bellaire che all'epoca si chiamava ancora solo bellaire in tre mesi e cosa faccio e cosa non faccio inizio a contattare qualche piccola casa editrice arrivo ad avere un aggancio però c'era qualcosa che non mi tornava non so non ero così felice come mi immaginavo e il caso ha voluto che l'algoritmo di instagram visto che stavo scrivendo comunque di sirene mi fa vedere l'account di Liliana Marchesi che aveva appena pubblicato in self publishing l'abisso di anni non lo so io l'ho guardata per un po' di tempo ho comprato il suo romanzo e un giorno mi son detta beh io non lo conosco questo self publishing non so che cosa sia le scrivo per sapere come funziona lei è stata molto molto gentile perché mi ha risposto mi ha risposto subito e ho questo proprio ricordo vivido le scrivo prima di andare a scuola che dovevo attaccare da lì a mezz'ora e vabbè ma non mi risponderà invece mi risponde ma nel giro di mezz'ora praticamente ci mettiamo d'accordo di collaborare insieme per far uscire il mio romanzo e da lì noi abbiamo comunque reso tutto ancora più magico perché sui social io ero cenerella perché all'epoca ero comunque anche bionda appunto e lei era la mia fatta madrina e le persone si sono appassionate tantissimo a tutte le nostre vicende perché io l'ho raggiunta Caravaggio lei mi ha insegnato praticamente tutto dal punto di vista di come essere una scrittrice a come utilizzare i social in modo ottimale a che cosa voleva proprio dire comunque arrivare alla pubblicazione che onessu lo scrive un romanzo ma in parte prepararsi a tutto quello che verrà dopo alle critiche alle cose belle e quindi abbiamo abbiamo collaborato ed è stato veramente una scuola per me Liliana e beh in effetti i social possono essere un'opportunità per una scrittrice così come parliamoci chiaramente il self publishing che in Italia purtroppo ha ancora un marchio negativo mentre invece già negli Stati Uniti molti autori autrici che pubblicano in self publishing hanno un grosso seguito sui social e hanno veramente la possibilità non voglio parlare in termini meramente economici però hanno la possibilità di vendere i propri libri perché poi alla fine della fiera è vero che noi scriviamo per esigenze personali spesso ma la scrittura che viene poi pubblicata è una condivisione e quindi nel caso di romanzi di racconti ma anche di testi utili per una trama di un di un di un manga piuttosto che di un canovaccio per per un film o per una serie di fatto poi c'è la parte economica e se veramente noi diciamo sempre vogliamo vivere di scrittura ho capito però approfittiamo anche di queste occasioni che ne pensi sì diciamo che noi appunto autori del self publishing ci promuoviamo da soli nel senso ovviamente tutto a un costo se si vuole pubblicare in maniera ottimale se mi facessi io la grafica veramente sarebbe una cosa orrenda quindi mi pago la grafica che è sempre Liliana e poi c'è anche tutta una situazione di editing di paginazione di conversione ovviamente noi ci autopromuoviamo però non so come mai se questa cosa dovrebbe rendere anche più tranquillo il lettore ovvero non è che mi alzo una mattina scrivo e pubblico su Amazon ma mi avvalgo anche di professionisti eppure c'è sempre questa un po' tendenza a screditare chi si autopubblica come proprio a dire non ti ha voluto nessuno l'hai pubblicato da solo però in fin dei conti appunto come lo è per Liliana per me per molti altri è una scelta il self publishing ovvero il diciamo il voler decidere di di pubblicare da soli la propria opera quindi non permettere magari che la trama possa essere modificata perché sì gli editori delle caseitrici ti aiutano di sicuro perché se ti danno dei consigli sono ottimali però non so per la prima opera volevo fare un po' tutto di testa mia e quindi avvalermi del self publishing poi in futuro chi lo sa io sono aperta anche alle caseitrici perché non essendo comunque una realtà che ho mai sperimentato mi piacerebbe anche solo vedere come funziona però vorrei appunto che passasse il messaggio che chi si autopubblica non è una scelta di serie B anzi non può proprio esserlo perché è così complicato promuoversi da soli che se uno non è assolutamente consapevole di quello che sta facendo potrebbe andare male io aggiungo anche un'altra cosa che Amazon ci dà la possibilità di guardare in anteprima le prime pagine e basta leggere cioè se siamo lettori basta leggere si capisce subito se non se un romanzo è bello o ti prende ma se è scritto bene è questa la grossa selezione che si può fare poi non ci dimentichiamo che le grandi case editrici hanno anche pubblicato diciamo biografie di calciatori 23 anni o di personaggi diciamo che di concreto poi hanno portato nella loro nicchia sicuramente tanto il gaming o altro però poi voglio dire alla fine poche secondo me sono le storie veramente belle mi viene in mente non lo so Surry uno youtuber storico lui si che ha una bella storia da raccontare e non a caso adesso è ospite in vari podcast su youtube di una certa rilevanza però poi al di là di tutto voglio dire altri sono solamente attività commerciali sono azioni votate solo al marketing quindi io la darei una o almeno io cerco sempre di dare anche una possibilità agli autori e alle autrici in self senti Diletta il pattinaggio vogliamo parlarne sì allora il il pattinaggio è stato veramente importante nella mia vita io ho pattinato dai miei sei anni fino ai 22 un periodo lunghissimo della mia vita era era tutto per me il pattinaggio a rotelle specifico non sul ghiaccio quindi le i pattini proprio quelli vecchia scuola con la scarpetta e le due ruote davanti e due dietro e allora ho pattinato tanto 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 mi sono sacrificata molto perché io avevo l'obiettivo comunque di lasciare il segno come tutti i pattinatori in fondo si augurano di poter fare e questo ho voluto dire tante rinunce nella mia adolescenza non so le mie amiche andavano a ballare io il giorno dopo avevo un allenamento quindi o non andavo proprio a ballare oppure tornavo a casa presto i lividi sulle gambe il male a camminare i dolori ovunque disciplina tanta disciplina e penso che per la scrittura sia stato tutto retaggio dall'agonismo arrivo all'obiettivo quello che per anni guardavo veramente da lontano ah non riuscirò mai ad andare che era la gara nazionale più importante in Italia e arrivata quella all'apice a livello nazionale dovevo fare una scelta la scelta era appunto se comunque vivere di pattinaggio ovvero allenarmi tanto di più e già mi allenavo parecchio però dovevo praticamente vivere in pista ed è giusto perché se uno sportivo vuole arrivare agli europei mondiali deve vivere di quello non può avere tantissime altre distrazioni oppure se continuare in quel modo però abbassare un po' l'asticella quindi non aspettarmi chissà che di arrivare dove volevo arrivare e intanto andare avanti a studiare perché all'epoca ero studentessa la facoltà di giurisprudenza oppure mollare proprio tutto il mondo del pattinaggio diciamo che io non ho mai voluto le vie di mezzo non mi sono mai piaciute quindi la scelta era o il pattinaggio o la scuola e io ero una secchiona quindi volevo andare avanti su quel fronte anche perché purtroppo per il pattinaggio non è che avesse chissà che futuro eroseo non è uno sport apprezzato come il pattinaggio sul ghiaccio non ci sono le olimpiadi quindi nella diciamo nel futuro più meraviglioso ero un'allenata di gente e e quindi ho detto perché buttare all'aria comunque sacrifici di anni di studio e in parte comunque era un'altra parte di me che amavo giurisprudenza a malincuore fece l'ultima gara il 9 settembre il giorno prima del mio compleanno e quella sera finita la gara stupi tutti perché dissi a mia mamma questi sono i pattini nascondili non li voglio più vedere e all'inizio mia mamma rimase veramente spiazzata da questa scelta perché non se lo aspettava nessuno che io scegliessi l'università e però diciamo che è una situazione con cui all'inizio mi ha fatto soffrire tantissimo perché da ritrovarsi da super sportiva a mi alleno 5-6 giorni a settimana a nulla fine si è chiuso tutto è stato traumatico però mi ha portata a riscoprire un mio vecchio amore che era la lettura quindi un po' per non pensare a questa cosa che mi rendeva triste ho incominciato a leggere tanto tanto per estranearmi e poi è arrivata la scrittura quindi io è un capitolo che assolutamente non nascondo e anzi lo metto sempre nelle mie biografie dei libri o del mio sito internet perché se non ci fosse stato il pattinaggio che è stato il mio mondo quella sofferenza non sarei arrivata poi come una farofalla a scoprire un mondo differente che è la scrittura senti Diletta una domanda però sentiti libera di non rispondere come era il rapporto con gli insegnanti perché da insegnante io cerco sempre di stimolare i ragazzi a fare sport a praticare uno sport purtroppo gli sport minori sono maltrattati perché in Italia pensiamo solo al calcio volley serie A basket serie A punto poi già diventa io ho avuto un'esperienza simile con le arti marziali e anche io secchionissimo ho scelto ovviamente la facoltà di lettere però com'era il rapporto con gli insegnanti perché io me li ricordo preoccupati per i lividi che ogni tanto pure quando zoppicavo guarda ti racconto questo aneddoto mi alzo all'improvviso casco a terra perché reduce il giorno prima da un torneo di arti marziali avevo quattro costole incrinate mi manca il fiato mi sento male casco a terra e c'era questa professoressa di italiano poverina Santa Donio la chiamavo collega al quarto anno delle superiori tu immagina che ha dovuto sopportare ero indisciplinato e lei fa Zera Zera che cosa è successo chiamate il bidello chiamate è stata io a terra che ridevo e sentivo dolore però immagino no allora devo dire che forse non faceva né caldo né freddo questa situazione non non mi era mai stato posto nessuna domanda sul fatto che magari prendevo l'ascensore quelle volte in cui avevo un po' uno stiramento muscolare quindi fare quattro cinque piani di scale non era l'ideale però no erano da una parte molto contenti nel senso appunto non mi ponevano domande e a volte mi chiedevano di far vedere sulla LIM il video delle mie gare io no molto timida mi vergognavo tantissimo adesso però che ci penso una volta sono stata tra virgolette utilizzata per far scena perché nella mia scuola si era deciso di partecipare alle olimpiadi della danza e hanno detto ma se mettiamo una con i pattini a rotelle sai fa super scena infatti arrivamo terzi e quindi lì era stata un po' abusata questa cosa però no anzi poi dopo quando io sono passata dall'altra parte perché ho insegnato per un periodo ho sempre espronato i ragazzi a fare sport perché ti dà comunque una tempra una predisposizione al sacrificio non indifferente sia poi nello studio che in tutte le altre situazioni della vita secondo me è importantissimo lo sport oltre che far star bene da una disciplina una determinazione a raggiungere gli obiettivi che dopo è invidiabile diletta sei felice sì si vede si vede si vede da come ti poni da come parli senti che progetti per il futuro hai allora progetti per il futuro allora domanda complicata perché sono sempre stata una persona che pianificava come nel romanzo poi sono arrivata ad un certo punto che in realtà è un periodo molto vicino ad oggi ovvero due anni fa in cui tutti i miei piani si sono sgretolati avevo in mente di laurearmi di andare a fare il lavoro dei sogni poi dopo la vita spesso ci pone davanti a dei limiti quindi il mio lavoro dei sogni era insegnare mi piaceva tantissimo poi però purtroppo diciamo che la domanda è tanta nel mondo della scuola e non riuscivo assolutamente ad insegnare le materie che avrei dovuto insegnare diritto economia quindi ero la classica mad quindi che veniva chiamata per la necessità e quando quel mio grande sogno ho capito che non si poteva avverare dopo due anni e mezzo la situazione insomma non si sbloccava mi son detto ok basta pianificare basta decidere al secondo che cosa dovrà succedere vivi la vita semplicemente sii felice e lasciati un po' trasportare mi sto lasciando trasportare e questo mi ha portato a scrivere e non mi faccio più piani quindi non lo so vivo vivo la giornata però cerco di rendere ogni giorno estremamente unico e importante facendo quello che mi piace fare e in questo momento quello che mi piace fare di più in assoluto è scrivere bene bene allora ti do io un progetto per il futuro un fine settimana in uno dei nostri paesini del sud Italia di quelli costieri vieni magari trovi un fonte di ispirazione o trovi un altro luogo dove connetterti e dove diciamo rigenerare le tue le tue batterie di scrittrice esatto chi lo sa chi lo sa io ricordo ricordo a chi ci sta ascoltando che la sirena di bell'aere è acquistabile direttamente sul sito di amazon.it trovate il link in descrizione seguite la pagina instagram di maria di letta veluti e se volete approfondire maria di letta veluti pensate a mandare messaggi in privato non facciamo non portiamo più bene andate sul sito maria di letta veluti punto it maria di letta è stato un vero piacere chiacchierare con te anche per me tantissimo mi ha fatto veramente tanto 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 piacere è stata veramente una chiacchierata con me tra due amici in un bar ciao maria di letta ciao